Ciao a tutti, sono Federico e sono iscritto al secondo anno magistrale in chimica all'Università degli Studi dell'Insubria di Como. Sto concludendo il mio percorso di studi con un lavoro di tesi che riguarda la progettazione e la sintesi di antitumorali. Sono qui per ricordarvi che anche da casa potete scegliere per il vostro futuro e parte proprio da questa decisione il passo per definire il percorso che intraprenderete nella vostra vita e non solo lavorativa. L'Insubria offre una formazione a 360 gradi in qualità di chimici, ma anche chimici industriali, grazie a corsi caratterizzanti ben strutturati e un'ampia possibilità di scelta tra quelli opzionali. Tutto ciò verrà presentato da un corpo docenti formato da validissimi ricercatori. Inoltre il valore aggiunto posseduto dal nostro Ateneo risiede proprio nel contatto diretto tra professori e studenti che vi permetterà di sviluppare a pieno le vostre attitudini. Fate quindi la vostra scelta in modo consapevole e in bocca al lupo.